In molti video, e non solo nei miei, ti viene indicato che per rinascere dopo la fine di una relazione devi amare di più te stessa e prenderti cura di te. Ognuno ti fornisce il suo modo di prendersi cura di sé in base alle proprie esperienze ed interessi. Quindi puoi trovare chi ti suggerisce di dedicarti alla tua spiritualità, chi ti propone corsi di meditazione e altri che ti suggeriscono di dedicarti ad uno sport o più semplicemente ad andarti a divertire con le tue amicizie. Oggi voglio condividere con te 15 modi per amare meglio te stessa o te stesso dopo una relazione che sono applicabili da tutti indipendentemente dalle proprie passioni ed interessi. Sono Paola Fendoni, ipnologa, scrittrice e direttrice del Dipartimento di Analisi e Prevenzione delle Dinamiche Narcisistiche nelle Relazioni dell'Università Unimeyer di Milano e benvenuti sul mio canale dove tratto il tema del narcisismo nelle relazioni. Ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube per non perdere i prossimi video e se vuoi conoscere la mia storia la puoi leggere nel libro Andata e Ritorno che trovi in tutte le librerie online. Tornando all'argomento del video, dopo una situazione dolorosa è fondamentale prendersi cura di se stessi e riappropriarsi della propria felicità. Ecco alcuni consigli su come farlo. Trascorri del tempo da single, non cercare altre relazioni e soprattutto in primis non cercare il tuo ex, anche se all'inizio fa male, impara a stare con te stessa e a volerti bene. Quando comincerai di nuovo a stare bene con te stessa dopo un percorso potresti essere pronta ad avere un altro partner ma senza l'obbligo di trovarlo per forza. Liberati di tutto ciò che riguarda il tuo ex, fotografie, messaggi, numero, profili, social, tutto. Non lasciare che imbatterti accidentalmente lui possa rovinarti una qualsiasi giornata. Vivi da egoista se la relazione da cui sei appena uscita era veramente tossica. Non avrai avuto tanto tempo per pensare a ciò che ti fa stare bene. Ecco ora puoi, agisci da egoista, fai cosa vuoi, mangia cosa vuoi, ascolta la musica che vuoi, guarda la serie tv che preferisci. Non devi preoccuparti di qualcuno che non si è mai dato pena per le tue esigenze. Finalmente pensa che sei forte, perché lo sei, sei riuscita finalmente a liberarti di lui o di lei nonostante ti creassi quasi una dipendenza patologica e malata. Stringiti la mano da sola e rifiuta totalmente l'idea di rimuginare sui tuoi possibili errori nella relazione. Circondati di amore con le amiche, gli amici, la tua famiglia, i tuoi colleghi. Intorno a te c'è tanto affetto, godine e non pensare mai di essere sola ad affrontare la vita. La solitudine negativa non è costruttiva. Perdona te stessa. Perdonati per avergli permesso di calpestarti. Perdonati per non averlo lasciato prima. Perdonati per non aver agito prima per il tuo bene. Perdonati per esserti abbassata certe volte al suo livello. Riprendi a fare tutto ciò che la tua ex relazione ti impediva di fare. Senti vecchi amici da cui lui ti aveva fatto allontanare. Metti le gonne corte se a lui avessero dato fastidio e tu invece le avresti adorate, eccetera. Smetti di rimuginare sul perché è andata male e su come sia stato possibile. Basta, non importa più. Pensi sia impossibile? Comincia piano piano. Sforzandoti così, appena sopraggiunge un pensiero di questo genere, imponiti di vedere una serie o un video o una persona che ti fanno ridere. Il livello successivo sarà in porti di pensare a ridere. Poi verrà automatico. Il rimuginare diventerà solo un ricordo. Pensa al presente. Pensa come puoi migliorarti ogni giorno per conquistare tutto ciò che vuoi. Chiedi scusa a chi potresti aver ferito durante la tua ex relazione. Con le persone tossiche può succedere. Chi ti vuole bene davvero si accorge che qualcosa non va, te lo fa presente e tu reagisci male lì per lì. Scusati e ricostruisci i rapporti. Fai delle cose che tu ami per te stessa, quello che tu ami davvero, non quello che diceva di amare lui. Datti tempo in generale di crescere, di sentire meno dolore, di amarti meglio. Non succede dall'oggi al domani, c'è bisogno di tempo. Trova un modo per esprimere te stessa o riprendi quello che avevi già. Scrivi, canta, suona, balla, disegna, corri, qualsiasi cosa ti faccia stare bene. Ascolta i tuoi amici, ti dicono cose belle e vere perché le pensano. Starai meglio senza di lui o lei. Ti aspetta qualcosa di bello, sei più luminosa. Credici, coccolati, concediti piccole cose come un libro che desideri leggere, come del tempo per rilassarti. Fatti dei regali, qualche saldo per te puoi permetterti di spenderlo. Lo shopping è sempre terapeutico. Spero che i 15 modi per amarti meglio ti siano stati utili e che inizierai già da ora a metterli in pratica. Ricorda che tu sai quanto vale e che meriti il meglio nella tua vita. Se hai bisogno di supporto, contattami a paolafendi.com. Se vuoi condividere la tua esperienza, scrivila nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al mio canale per rimanere aggiornata sui prossimi contenuti e partecipare alle dirette del mercoledì. Ci vediamo al prossimo video. Prenditi cura di te.